Iocanto vuole essere un momento, sono due giorni dedicati ai ragazzi dai 6 ai 16 anni a partecipare a questo concorso. Diciamo che il concorso è chiuso ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, ma l'invito è veramente a tutti, a tutte le famiglie, a tutti coloro che vogliono venire a passare due giornate in allegria, ma soprattutto a tastare con mano quelle che sono le eccellenze d'Abruzzo, perché saremo aiutati e supportati anche da molti brand abruzzesi e non solo, che aiuteranno affinché questa manifestazione riesca al meglio. In più abbiamo la collaborazione con l'Istituto De Cecco di Pescara, che in quelle due giornate svolgerà l'Open Day. Ecco, tornando proprio alla manifestazione canora, alla gara possiamo dire, gara che è aperta non solo ai ragazzi abruzzesi, ma insomma a tutta Italia, oltretutto in questa manifestazione ci sarà anche una madrina d'eccezione, Sandra Milo. Assolutamente sì, intanto ci piacerebbe che venissero anche ragazzi al di fuori dell'entità abruzzese, quindi siamo aperti veramente a tutto. Diciamo che cominciamo a crescere, quindi sarà il nostro trampolino di lancio. La madrina è Sandra Milo, visto che abbiamo fatto un'edizione estiva dove lei ha partecipato ed è stata molto amata dal nostro pubblico, quindi abbiamo voluto riproporla e nella serata finale insieme a Sandra Milo ci saranno in giuria anche la mitica Mare Grazia Fontana, che è la coach per eccellenza attualmente su Rai 1 con tale e quale show. E poi abbiamo Cristiano Imparato, che è il primo classificato, quindi il primo vincitore di Yocanto, che è il format nazionale, appunto andato in onda molti anni fa su reti nazionali. Grazie.